Le strutture socioeducative pugliesi chiedono alla Regione il pagamento dei buoni servizi. Questo permetterebbe agli operatori dei servizi educativi di ricevere lo stipendio. Sentiamo. Il 28 di maggio le strutture socioeducative accreditate presso la Regione Puglia, asili nido, centri educativi per l'infanzia, ludoteche, hanno indetto uno stato di agitazione. La Regione Puglia è stata più volte interpellata perché pagasse i buoni servizi con una procedura d'urgenza che permettesse di pagare gli stipendi agli oltre 5.000 operatori che lavorano nelle nostre strutture. Forniamo servizi a oltre 15.000 minori, ma da settembre non si ricevono i soldi dalla Regione Puglia. Non riusciamo più a pagare gli stipendi. Molte strutture nei prossimi giorni saranno costrette a chiudere completamente. Chiediamo alla Regione Puglia che immediatamente vengano riconosciute le somme dovute alle strutture. Il 28 di maggio, proprio per questo motivo, saremo sotto la Presidenza della Regione Puglia per chiedere al Presidente Emiliano di risolvere con urgenza questa situazione non più sostenibile. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.